Preso Kumbulla, difensore per me molto forte, che se si impegna può dare anche tanto, quindi il nuovo giocatore della Roma. Difensore centrale preso dalla LAS Verona. Io precisamente non è che ho visto tantissime, tantissime azioni di Kumbulla, però lo conosco. Non so come è forte, se è abbastanza forte. Poi io spero di vendere a Fazio, tipo, Fazio lo voglio vendere, non vedo l'ora di vendere Fazio. Raga, perché non è che mi sta in dibattito, fa tanti errori. Sono contento che la Roma ha preso questo Kumbulla. Ora vedremo se la Roma lo mette dalla titolare, oppure no. Poi ci serviva, se non torna Smalling ci serve un difensore. Quindi scrivete qua sotto i commenti se per la Roma è stato un buon colpo, oppure no. Per me è preso da 30 milioni, non è che... 30 milioni per me era anche meglio, tipo 25 milioni perché... 30 milioni per un difensore della LAS Verona. Per me 25 milioni ci stava più bonus, non lo so. Non so quanti anni ha, però prima della LAS Verona non so con che giocava. E una cosa ragazzi, scusa, questo video, l'ultimo video l'ho fatto tre giorni fa, lo sapete perché? Perché tutti vanno a scuola, abbiamo ricominciato tutti ad andare in classe. Quindi io il lunedì, il mercoledì, il venerdì ho calcio. Quindi è oggi, è martedì, non sono riuscito, perché oggi è pomeriggio e devo fare una cosa di scuola. Ve lo avevo già annunciato in un altro video che... Cioè, comincerò a calare un po' con i video, non farò più video, così tanti video alla settimana. Però almeno quel sabato o la domenica posso fare tanti video, almeno due al giorno devo farli per forza. Meno male che ci sono le... Le cose, come si chiamano? Mi ricordo, eh, ora da giovedì, io ora starò tipo una settimana di nuovo in vacanza, non è che ho fatto da qualche parte, però sto a casa. Cioè, tutta la mia scuola, da giovedì, questo, fino al giovedì prossimo. Quindi devo fare, potrò fare tanti, tanti video. Quindi questa settimana, da giovedì fino all'altro giovedì, devo fare tanti, tanti video. Così se tipo non li farò tanti dopo, meglio che li faccio uno. Quindi, ora vedremo come se darà grinta questo cumbullà, vedremo se lo metteremo di tolare. Vedremo come se calerà su FIFA, io ti metto dei discorsi che non c'entrano mai. Calerà su FIFA, aumenterà. Io dopo vado a vedere l'età e poi, casomai, ve lo dirò in un prossimo video. Ragazzi, arriviamo a 300 iscritti entro poco. Sarei molto contento, non so, quando arriviamo a tipo 300 iscritti. È molto difficile pensare gli speciali, perché è molto, molto difficile, ragazzi. Quindi, vedremo se farà più assist o più gol questo cumbullà. Per me farà più assist che gol. Perché un difensore fa più assist che gol. Un difensore in tutta la stagione potrebbe fare, se è molto difensivo, potrebbe fare almeno 5 gol. Se tipo attacca tanto, se è molto forte anche l'attacco, potrebbe fare anche quei 7 gol, 8 gol e li può fare anche tutti. Ragazzi, mettete like a questo video. Sabato o sabato o domenica uscirà il video, ovviamente, di 24 ore. Mangio per 24 ore come Ronaldo. E, ah, questa cosa che vi volevo dire ora, ve la dico su quel video. Spero che vi piacerà, ancora ovviamente non l'ho fatto. Appena avrò finito di fare il video, mi metterò subito ad editare. E spero che con l'editing ci riesco bene. Perché io non è che sto editare tanto bene, però almeno faccio qualcosa, metto qualcosa comunque. Quindi ragazzi, il video può finire qui. Per me è stato un buon acquisto per la Roma. Quindi ragazzi, il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi troppo contento. Ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.